ancora non era stata fabbricata ne ero certo ne si stava fabbricando la dirigenza che avrebbe tradito la mia fiducia sulla sua protezione ma tutte le vetture che potevamo incontrare sarebbero state fragili e leggere in confronto a noi e notai anche un particolare sinistro della nostra situazione non eravamo dal lato giusto della strada ma si potrebbe osservare che forse anche un'altra vettura seppur vi era non teneva la mano giusta e così da due mali sarebbe potuto nascere un bene ma ciò non era probabile lo stesso motivo che aveva attilato noi sul lato destro della strada cioè la comodità della soffice sabbia battuta in contrasto col centro lastricato sarebbe stato invitante anche per altri perciò le due opposte vetture viaggiavano certamente dalla stessa parte e proprio da noi che non tenevamo, secondo le norme, la nostra mano gli altri si sarebbero naturalmente aspettati che passassimo sull'altro lato le nostre lampade ancora accese avrebbero dato l'impressione che noi vigilassimo e chi ci avesse incontrato avrebbe fatto assegnamento su noi per sterzare tutto ciò io vidi non ragionando o con sforzo o successivamente ma in un solo lampo di orrenda simultanea intuizione e lo avrei veduto anche se gli anelli della previsione fossero stati mille volte di più sotto l'influsso di questa sicura benché rapida visione del male che forse ci si addensava d'innanzi ah! quale cupo mistero di paura quale sospiro di angoscia fu quello che passò nell'aria mentre di nuovo si udiva un lontanissimo rumore di ruote era un sussurro un sussurro lontano forse quattro miglia e segretamente annunciava una disgrazia che per essere prevista non era meno inevitabile che per essere nota non era scongiurata che cosa si poteva fare? chi poteva farlo per frenare la corsa verticinosa di quei cavalli indemoniati? non potevo strappare le redini dalla stretta del cocchiere addormentato? tu lettore pensi che farlo sarebbe stato in tuo potere e io non discuto la tua stima di te stesso ma per il modo in cui la mano del cocchiere era serrata fra le gambe accavallate la cosa riusciva proprio impossibile era facile? ebbene guarda quella statua equestre di bronzo per due secoli il cavaliere crudele ha tenuto il morso nella bocca del suo cavallo levagli per un minuto le briglie te ne prego e bagnagli la bocca con l'acqua era facile? e allora fammi scendere di sella da quell'imperiale cavaliere toglimi quei piedi di marmo da quelle staffe di marmo di Carlo Magno il rumore dinanzi a noi cresceva ed era ormai fin troppo chiaramente un rumore di ruote chi e che cosa poteva essere? era il lavoro della sua carretta? era la giovane allegria di un calessino? era dolore che si indugiava? o gioia che correva? poiché anche i brandelli di suono erano troppo intermittenti a causa della distanza per poterne distinguere l'origine chiunque fossero i viaggiatori si doveva fare qualcosa per avvertirli su loro pesava la responsabilità di agire ma su noi e ahimè quel noi era ridotto alla mia povera persona distrutta dall'oppio pesava la responsabilità di avvertire come fare? non potevo suonare il corno della guardia già al primo mio pensiero mi trovavo sul tetto diretto verso il posto della guardia ma per la circostanza che ho già accennato della posta estera mucchiata sul tetto era questo un tentativo difficile e anche pericoloso per uno intorpidito da quasi 300 miglia di viaggio a cassetta fortunatamente prima che avessi perduto molto tempo in quel tentativo i nostri frenetici cavalli svoltarono rapidamente a una curva della strada che ci scoprì la scena finale dove lo scontro doveva compiersi e la catastrofe avere il suo suggello era chiaro ormai che tutto era finito il tribunale era riunito la causa era stata discussa il giudice aveva terminato non mancava che il verdetto dinanzi a noi si stendeva un viale dritto come una freccia e lungo circa 700 yard e gli alberi ombrosi che crescevano su due file regolari ai lati riunendosi in alto gli davano l'aspetto di una navata di cattedrale quegli alberi conferivano una profonda solennità alla prima luce ma pure ci si vedeva abbastanza per scorgere all'altra estremità di quella navata gotica un calessino fragile e leggero nel quale sedevano un giovanotto e al suo fianco una fanciulla ah mio giovane signore che state facendo se è necessario che le vostre parole le sussurriate all'orecchio di quella signora sebbene in realtà io non veda chi potrebbe udirvi in un'ora e su una strada così solitaria è anche necessario per questo che posiate le vostre labbra sulle sue la piccola vettura si avanza a un miglio all'ora e i due viaggiatori così teneramente occupati tengono come è naturale la testa bassa tra loro l'eternità secondo ogni calcolo umano vi è solo un minuto e mezzo oh cielo che cosa farò mai che cosa farò io mai con le parole e con l'azione che aiuto posso regare è strano e a un semplice ascoltatore di questo racconto può sembrare ridicolo che io avessi bisogno a un suggerimento dell'Iriade per ispirarmi all'unica risorsa che rimaneva eppure fu così ricordai ad un tratto il grido di Achille e il suo effetto ma potevo pretendere di gridare come aveva gridato il figlio di Peleo con l'aiuto di Pallade no ma neanche mi occorreva un grido che chiamasse raccolta tutta l'Asia in armi bastava un grido che mettesse il terrore nel cuore di due giovani spensierati e di un cavallino da calesse gridai e il mio giovane non udì gridai ancora e questa volta mi udì poiché questa volta alzò la testa ecco era fatto tutto ciò che da me si poteva fare più di questo da parte mia non era possibile il primo passo era stato mio il secondo doveva farlo quel giovanotto il terzo era di Dio se quello straniero mi dissi è un uomo coraggioso e se ama veramente la fanciulla che gli sta a fianco o se anche senza amarla sente l'obbligo che ha ogni uomo degno di questo nome di tentare tutto il possibile per una donna affidata alla sua protezione egli farà e gli farà almeno qualche sforzo per salvarla se ciò fallisce morirà ugualmente nella sua morte sarà più crudele per aver tentato e morirà come un uomo coraggioso col viso rivolto verso il pericolo e il braccio intorno alla donna che ha cercato invano di salvare ma se non farà nessun tentativo sottraendosi senza lotta al suo dovere per così bassa viltà non sarà meno certa la sua fine morrà ugualmente e perché no perché rammaricarci che vi sia al mondo un vile di meno no lasciamo che muoia senza sprecare per lui un solo dei nostri pensieri di pietà e in tal caso serviamo tutto il compianto per il destino di quella fanciulla indifesa che ora per la minima ombra di debolezza da parte di lui dovrà col più brusco dei passaggi senza il tempo per una preghiera entro settanta secondi trovarsi dinnanzi al giudizio di dio ma vile egli non era fulminio era stato l'appello e fulminea fu la sua risposta vide udì comprese il disastro imminente già se ne addensava su lui la tetra ombra e già egli misurava le proprie forze per affrontarlo che cosa volgare ci sembra il coraggio quando vediamo le nazioni comprarlo e venderlo per un ocellino al giorno che cosa sublime ci sembra il coraggio quando un terribile richiamo ai più profondi abissi della vita solleva un uomo casi in fuga dinnanzi a un uragano sull'apice vertiginoso di una crisi tumultuante dalla quale si dipartono due vie e una voce dice udibilmente da questo lato sta la speranza scegli l'altro e piangi per sempre che menso trionfo se anche allora nell'infuriare di tutto intorno a lui nel parossismo del pericolo l'uomo riesce ad affrontare la situazione riesce a ritirarsi un momento in solitudine con dio e a cercare la sua guida in lui per sette secondi circa dei suoi settanta lo straniero tenne fermamente lo sguardo su noi come per scrutare e valutare ogni elemento del conflitto che lo attendeva per altri cinque dei suoi settanta secondi rimase immobile come uno che rifletta su qualche grande proposito per altri cinque secondi forse alzò gli occhi come chi nella sofferenza sotto la stretta del dubbio preghi che una luce venga a guidarlo verso la scelta migliore poi ad un tratto si levò rimase in piedi e con un potente strattone delle redini che sollevò dal terreno le zampe anteriori del cavallo lo fece girare sul perno delle zampe posteriori in maniera da porre il piccolo equipaggio in una posizione quasi ad angolo retto con la nostra fin qui la sua situazione non era migliorata solo era stato compiuto un passo verso la possibilità di un secondo se non si faceva di più non si era fatto nulla poiché la piccola vettura sebbene in una posizione diversa stava ancora proprio in mezzo al nostro cammino eppure anche in questo momento può non essere troppo tardi 15 dei 70 secondi restano forse ancora e solo un valzo supremo può valere a sgomberare il terreno affrettati dunque affrettati già che essi i fuggenti attimi si affrettano affrettati affrettati mio giovane valoroso e che gli zoccoli dei nostri cavalli si affrettano anch'essi rapidi sono gli attimi fuggenti più rapidi sono gli zoccoli dei nostri cavalli ma se l'umana energia può bastare non temete per lui chi guidava era fedele al suo terribile compito e fedele era il cavallo al suo comando una frustata un incitamento dello straniero con la voce e con la mano uno strattone al cavallo un balzo come nell'atto di superare un ostacolo corterono le zampe anteriori del docile animale sul centro di curvo della strada gran parte del piccolo equipaggio era dunque fuori della nostra ombra torreggiante ciò appariva evidente anche alla mia vista agitata ma poco importava che un relito rimanesse a galla salvo se sull'altro che periva fosse imbarcato il carico umano la parte posteriore della vettura era davvero al sicuro dalla rovina chi aveva il potere di rispondere a questa domanda sguardo di pupilla pensiero d'uomo ala d'angelo quale di queste cose possedeva tanta rapidità da slanciarsi fra la domanda e la risposta e separarle l'una dall'altra la luce non è più indivisibile dalla luce di cui segue le orme di quanto fosse il nostro arrivo travolgente del tentativo di fuga del calessino e questo giovane dovette sentire fin troppo chiaramente egli ci voltava ora le spalle e non poteva più comunicare col pericolo per mezzo dello sguardo ma dal fragore pauroso del nostro equipaggio il suo orecchio aveva esattamente appreso che per quanto riguardava i suoi sforzi tutto era finito ormai rassegnato aveva desistito dalla lotta e forse in cuor suo mormorava padre che sei nei cieli compi tu dall'alto ciò che io sulla terra ho tentato più rapidi d'ogni gora li oltrepassammo nella nostra corsa inesorabile o furia ed uragano che dovette risuonare nelle loro giovani orecchie al momento del nostro passaggio anche in quel momento il tuono della collisione parlò alto o col bilancino o col fianco del nostro primo cavallo di sinistra avevano urtato la ruota sinistra del piccolo calesse che si trovava in posizione obliqua e non abbastanza voltata da essere esattamente parallela alla nostra ruota di sinistra passammo con tale impeto che il colpo risuonò orribilmente balzai in piedi inorridito per vedere quale disastro avessimo prodotto dal mio posto elevato mi fosse a guardare indietro in basso la scena che in un istante narrò intera la sua storia e mi si impresse tutta nel cuore per sempre eccolo il campo di un'emozione ormai finita il cavallo stava piantato immobile con le zampe anteriori sul centro lastricato della strada e tutta la comitiva era il solo che si poteva supporre non sfiorato dall'angoscia della morte la piccola vettura di legno leggero in parte forse per la torsione violenta delle ruote del movimento di poco prima in parte per il terribile colpo che le avevano dato quasi partecipasse all'orrore dell'uomo era tutta percorsa da tremiti e brividi il giovane non tremava né brividiva stava immobile come una roccia la sua era però l'immobilità dell'agitazione agghiacciata dall'orrore non osava ancora guardarsi intorno sapeva che se qualcosa restava da fare non poteva più essere fatta da lui e non sapeva ancora con certezza se erano salvi ma la fanciulla oh dio del cielo potrà mai quello spettacolo svanire dai miei sogni quel sollevarsi ricadere sul sedile cadere e risollevarsi levare selvaggiamente le braccia al cielo aggrapparsi a qualche oggetto immaginario nell'aria quella accosciarsi pregare delirare disperare la figura di lettore i particolari dell'accaduto lascia che ti rammenti le circostanze di quella situazione senza precedenti dal silenzio e dalla pace profonda di quella divina notte d'estate dalla patetica fusione di quella dolce luce di luna d'alba di sogno dalla virile tenerezza di quell'amore che lusinga bisbiglia mormora improvviso quasi uscendo dai boschi e dai prati d'improvviso quasi uscendo dall'aria apertasi in una rivelazione d'improvviso come se il terreno si spalancasse ai suoi piedi ecco addosso con l'impeto delle cateratte la morte il fantasma incoronato col suo seguito di terrori e il ruggito felino della sua voce gli istanti erano contati la lotta finita la visione chiusa in un batter d'occhio i nostri volanti cavalli ci avevano trasportato alle estremità di quella navata ombrosa voltammo ad angolo retto nella nostra primitiva direzione la curva della strada sottrasse la scena al mio sguardo in un attimo e la trascinò nei miei sogni per sempre passione della morte improvvisa che una volta nella giovinezza lei si interpretai nelle ombre dei suoi segni visti da dietro delirio del panico che assume l'aspetto già da me veduto nelle chiese tra le tombe di una donna che spezza i suoi legami sepolcrali di una ionica forma di donna che si protende in avanti dalle rovine della sua tomba con piede arcuato occhi al cielo mani giunte in adorazione attendendo spiando tremando pregando che lo squillo della tromba la sollevi per sempre dalla polvere ah visione spaventosa dell'umanità che raccapriccia sull'orlo di terribili abissi visione che indietreggiasti e ti ritraesti come una pergamena quando si accartoccia dinnanzi alla rabbia del fuoco che corre sulle ali del vento epilessia così breve dell'orrore perché mai non puoi tu morire passando così bruscamente nelle tenebre perché mai spandi ancora i tuoi tristi funere i malifici sui mosaici splendenti dei sogni brano di musica appassionata udito una volta e mai più che cosa ti tormenta perché i tuoi accordi che s'aggirano nel profondo affiorino a intervalli da tutti i mondi del sonno dopo 40 anni non abbiamo perduto nessun elemento di orrore ecco è l'estate l'onnipotente estate eterni cancelli della vita e dell'estate sono spalancati e sull'oceano tranquillo e verdeggiante come una savana la dama sconosciuta della terribile visione ed io stiamo navigando lei su una pinassa fatata e io su un treponte inglese entrambi seguivamo il vento della felicità gaudiosa entro il dominio della nostra patria comune in questo antico parco d'acqua in questa bandita senza sentieri dell'oceano dove l'Inghilterra d'estate ed inverno dal sorgere del sole fino al tramonto erra a suo piacere come una cacciatrice ah quanta floreale bellezza si celava o si rivelava d'improvviso sulle isle tropicali tra cui navigava la pinassa e sul suo ponte che accolta di fiori umani fanciulle incantevoli e nobili giovani che danzavano insieme e lentamente venivano verso di noi tra musiche e incenso tra i fiori delle foreste e sontuosi grappoli di vendemmia treni spontanei ed ecchi di dolci risa di fanciulle lentamente la pinassa si avvicina a noi ci saluta gaillamente e in silenzio scompare nell'ombra della nostra poderosa prora e allora com'è un segnale del cielo la musica e i canti e il dolce beccheggiare delle risa di fanciulle tutto si tace quale calamità ha colpito la pinassa lei è venuta incontro o l'ha raggiunta nella nostra ombra terribile si celava dunque la rovina dei nostri amici la nostra ombra era l'ombra della morte guardai oltre la nostra prua cercando una risposta ed ecco la pinassa era smantellata il festino e la festante brigata erano scomparsi l'orologio della vendemmia era polvere e le foreste con le loro bellezze rimanevano sul mare senza nessuno per ammirarle ma dove sono? e mi rivolse al nostro equipaggio dove sono fuggiti i nove di giovani che danzavano con loro non vi fu risposta ma ad un tratto l'uomo dell'albero maestro abbugliandosi in viso per il timore gridò velo sotto vento ci viene addosso fra settanta secondi anch'essa affonderà guardai dalla parte del vento l'estate era scomparsa il mare si sollevava scosso dall'addensarsi dell'ira sulla sua superficie gravavano grosse nebbie reggruppandosi in arcata e in lunghe nevate di cattedrali già da una di esse con l'artente rapidità di una freccia scoccata dalla balestra correva una fregata diretta proprio verso la nostra rotta sono pazzi gridò una voce dal nostro ponte cercano dunque la loro rovina ma ad un tratto quando c'era quasi addosso l'impulso di una forte corrente o un vortice incontrato ne fecero piegare il corso ed essa continuò a procedere senza un urto mentre ci passava vicino in alto tra le sartie stava la dama della pinassa gli abissi le si aprivano dinnanzi malignamente per riceverla torreggianti ondate di spuma la inseguivano i flutti erano avidi di afferrarla ma ella era tracinata via lontano in deserti spazi del mare ancora io la seguivo con lo sguardo mentre fuggiva dinnanzi al vento ululante cacciata dai rosi uccelli marini e dai marosi infuriati la vedevo ancora come al momento in cui ci era passata accanto star ritta fra le sartie con i suoi bianchi drappeggi fluttuanti al vento era lì con i capelli scomposti e una mano aggrappata ai cortami sollevarsi e riabbassarsi fremendo tremando pregando così per molte leghe la vide star dritta levando a intervalli una mano al cielo fra le irate creste delle onde che la inseguivano e la furia della tempesta finché da ultimo a un suono lontano di risa maligne e di beffe tutto scomparve per sempre fra turbinosi rovesci di pioggia e poi ma non so quando né come dolci campane funebri piangenti da incalcolabili distanze la dipartita di chi muore innanzi l'alba le starono dal sonno in una barca ormeggiata a una spiaggia familiare spuntava appena allora il crepuscolo del mattino e al fioco barlume che diffondeva vidi una fanciulla adorno il capo di una ghirlanda di bianche rose per una festa solenne correre lungo la spiaggia solitaria con affannosa precipitazione era la sua la fuga del panico e spesso si volgeva a guardare come verso un terribile nemico alle sue spalle ma quando saltai a terra e segui i suoi passi per prevenirla di un pericolo cui andava incontro oimè e la mi sfuggi come un altro pericolo e in vano le gridai che le sabbie mobili le stavano dinanzi corse sempre più rapida voltò dietro a una sporgenza delle rozze scomparendo alla mia vista in un momento svoltai anch'io ma solo per vedere le sabbie traditrici schiudersi sopra il suo capo il corpo era già tutto sepolto solo la bella testa giovane e il diadema di bianche rose che la cingeva erano ancora visibili per la commiserazione del cielo e ultimo si vede un candido braccio di marmo vidi alla prima luce crepuscolare quella bella testa giovane sprofondare nella tenebra vidi quel braccio marmoreo sollevarsi al di sopra del capo e della tomba traditrice agitarsi oscillare elevarsi aggrapparsi come ad una mano falsa e ingannevole tesa dalle nuvole vidi quel braccio marmoreo esprimere la sua morente speranza ed esprimere poi la sua morente disperazione la testa il diadema il braccio tutto era scomparso infine anche su di essi le crudeli sabbie si erano racchiuse e della bella fanciulla nessun ricordo era rimasto sulla terra se non le mie lacrime solitarie e le funebri campane che dal mare deserto risuonando di nuovo più dolcemente cantavano un requiem sopra la tomba della giovinetta sepolta e sopra la sua aurora spenta nel nascere sedetti e piansi in segreto le lacrime che gli uomini hanno sempre dato alla memoria di chi morì innanzi l'alba e per il tradimento della terra nostra madre ma d'improvviso le lacrime e i funebri rintocchi furono ridotti al silenzio da un grido come di molti popoli e da un rombo come di un'artiglieria di un grande monarca che avanzavano rapidamente lungo le valli e si udivano lontano per gli ecchi delle montagne silenzio dissi mentre chinavo l'orecchio verso terra in ascolto silenzio questo è il tumulto stesso della lotta oppure e allora ascoltai più attentamente e bisbigliai nel sollevare il capo oppure o cielo è la vittoria finale la vittoria che divora ogni lotta è la vittoria è la vittoria